Buongiorno a tutti, mi chiamo Pierangela Oreggi e vorrei presentarvi i miei due romanzi pubblicati con il nome di Angela perché è così che mi conosce la maggior parte delle persone. Sono opere di self-publishing disponibili su ilmiolibro.it e sulle principali piattaforme commerciali sia in formato cartaceo che in formato ebook. Il primo libro della saga è Una casalinga tra le nuvole cui segue Amiche tra le nuvole. Si tratta di romanzi umoristici dalla comicità immediata che offrono tuttavia qualche spunto di riflessione. La protagonista è Viola, una frequent flyer compulsiva. Ma chi è una frequent flyer? È una persona iscritta al programma fedeltà di una compagnia aerea che guadagna miglia ogni volta che vola. Con le miglia si ottengono premi, biglietti aerei gratuiti ma soprattutto si accede ai club esclusivi e la nostra protagonista ha una vera e propria ossessione per il prestigioso club alla dorata che le dà accesso alle corsie prioritarie e alle sale VIP negli aeroporti. Ogni anno per guadagnarsi le 50.000 miglia necessarie a mantenere la sua permanenza in questo club, Viola si ritrova in situazioni divertenti e in avventure che a tratti tingono di giallo la trama dei romanzi. Le vicissitudini della protagonista e dei numerosi nonché pittoreschi personaggi che le fanno da contorno riempiono le pagine di colpi di scena tenendo incollato il lettore fino all'ultima pagina. Spero con questa mia breve presentazione di avervi incuriositi e spero che le storie di Viola vi appassionino come hanno appassionato tutti i miei lettori. Scansione il codice QR che ti porterà direttamente sul nostro sito web www.biblioteca.org. Qui puoi trovare la raccolta della rubrica Ti racconto un libro e tutte le nostre recensioni dei libri degli autori che hanno deciso di collaborare con noi. Inoltre puoi iscriverti alla nostra newsletter per essere sempre informato su ciò che pubblichiamo sul sito.